Possiamo vedere come si presentano le piante di asparago a fine stagione. Queste piante hanno due anni di vita dall'impianto e hanno già prodotto nella stagione estiva da 8, 10 a 15 turioni lasciati maturare e sviluppare nella loro piena totalità. Non è stato raccolto ancora nessun turione. In questo momento, verso la fine di ottobre, primi di novembre, è il momento proprio dove l'apparato vegetativo della pianta si sta seccando e in alcuni punti si sta solo ingiallendo, in altri è completamente secco ed è il momento opportuno per reciderlo alla base. La pianta entrerà nel riposo invernale per poi dare nuovi turioni la prossima primavera. Dunque, l'intervento di pulizia va fatto proprio in questo momento dell'anno, recidendo, nel momento in cui gli steli sono secchi, tutto l'apparato vegetativo alla base. Nella coltivazione dell'asparago è opportuno tenere molto pulito il filare sul quale viene coltivato lungo tutto il periodo estivo. Vedete, non ci sono erbacee infestanti molto grandi, queste piccole erbette alte 4-5 cm sono nate in tarda estate, ma non ci preoccupiamo di queste, perché la gran parte, ai primi geli in novembre, scomparirà. Dunque, ci troveremo in primavera una quantità minima di piccole erbette che verranno pulite in quel momento. Al contrario, pulendo bene il filare degli asparagi, possiamo dare sfogo alla pianta, la pianta crescerà meglio, non entrerà in competizione con le erbe infestanti e sviluppirà un apparato vegetativo migliore. Queste piante di due anni, come ho detto, hanno sviluppato nell'estate da 6-7 fino a 15 turioni. Non sono ancora stati raccolti per l'uso in cucina, dunque abbiamo lasciato la pianta sviluppare per irrobustire l'apparato radicale. Il prossimo anno, il terzo anno dal momento dell'impianto, incomincieremo già a raccogliere qualche turione in primavera. È opportuno, una volta recisi gli steli, lasciare questi spuntoni alti circa 7-8 cm, perché? Per individuare l'esatta posizione della pianta di asparago ed evitare dunque in primavera, durante le pulizie, per togliere dell'erba, per dissodare il terreno, di andare a zappare in prossimità del colletto della pianta, rovinare dunque le gemme che si trovano al di sotto del terreno. Se recidessimo alla base, sarebbe decisamente più difficile individuare esattamente dove si trovano le piante, mentre se lasciamo questi piccoli spuntoni alti 7-8 cm, abbiamo l'esatta posizione della pianta e riusciamo a individuarla in ogni momento della stagione di riposo invernale. Dopo aver tagliato i primi tralci già secchi ormai di asparago, ho provveduto a pulire l'aiuola, perché vi farò anche vedere come si può fare la concimazione autunnale con dello stallatico maturo oppure del buon compost. Se questa operazione viene fatta in autunno, allora è opportuno pulire il filare dove abbiamo piantato gli asparagi. Se invece questa operazione non viene fatta e viene fatta una concimazione primaverile, queste piccole erbette che ci sono al piede delle piante possiamo lasciarle fino a primavera. Alcune moriranno con il gelo, quelle che rimarranno verso fine inverno, inizio primavera, verranno tolti in una pulizia che sarà fatta in quel momento. Ora procedo a tagliare e nel procedere a tagliare vedo che all'interno questa pianta di asparago ha già prodotto dei semi, ho già dei semi fecondi, quindi si sono ingrossati, sono delle piccole bacche di un diametro che va dai 6 ai 7 mm che a piena maturazione, come sono adesso cadendo in terra, danno origine nella prossima primavera ad una pianta. Quindi il seme maturo di asparago può tranquillamente essere seminato sia in vaso che in piena terra e darà origine a delle nuove piante. Adesso vi faccio vedere come possiamo togliere manualmente questa piccola erbetta con l'utilizzo o di un piccolo rastrellino metallico o di un piccolo zappino con la punta triangolare e il forchino dietro. Semplicemente zappettando in superficie la terra, andando vicino alla pianta senza insistere troppo al suo colletto, possiamo eliminare tutte queste piccole piantine e successivamente possiamo procedere alla concimazione con un stallatico maturo o un buon compost. Così facendo andiamo a smuovere leggermente la terra in prossimità delle piante e anche lungo il filare. Questo permetterà una buona ossigenazione comunque dell'apparato radicale superficiale e allo stesso tempo consentirà, dopo aver aggiunto il letame maturo oppure il nostro compost, di penetrare e amalgamarsi con il terreno del filare. Conclusa questa operazione di pulizia, possiamo incominciare ad aggiungere lo strato di compost sul lungo il filare. Ora che ho preparato questo compost all'interno della carretta, lo vado a disporre lungo il filare. Ne metterò uno spessore che varia dai 7-8 cm ai 10 cm in abbondanza. Durante tutto il corso dell'inverno verrà riassorbito completamente dal terreno e mi nutrirà gli strati profondi in corrispondenza alle radici della pianta. Con la pala vado a distribuire uno strato lungo il centro del filare abbastanza spesso che poi eventualmente posso ancora sistemare manualmente con l'aiuto di un piccolo zappino. Ultimata la stesura di questo strato di compost maturo o di stallatico altrettanto maturo vado eventualmente con l'aiuto di una piccola zappetta, di un piccolo rastrellino a livellare e distribuire bene tutto attorno alle piante. Ora potete capire come mai il lasciare gli speroncini un po' più lunghi degli steli ormai secchi è utile perché in questo modo io ho la posizione esatta di dove cresce la pianta. Dunque in tutte le operazioni successive eviterò di andare a zappare proprio in prossimità del colletto dove in primavera usciranno i nuovi turioni. Fatta questa operazione il filare di asparagi non verrà più toccato fino alla prossima primavera. Infatti in primavera nascerà qualche erbacetta infestante che andremo a togliere di nuovo manualmente e quando le giornate inizieranno a scaldare, che ci sarà il sole che scalda la terra, usciranno i primi asparagi. Quindi nella prossima primavera queste piante avranno raggiunto il terzo anno dal momento dell'impianto. Dunque possiamo incominciare a raccogliere i primi turioni. Per due anni non sono stati raccolti per lasciare irrobustire le piante. Al terzo anno si può incominciare a fare una raccolta scalare e graduale, ma non la vera e propria raccolta. Dal quarto anno incominciamo proprio a fare la vera e propria raccolta corposa perché aumenterà notevolmente la produzione di turioni. Quindi questa è l'ultima operazione da fare prima dell'inverno.